bene buongiorno in questa breve lezione vorrei concludere l'argomento legato alle pulegge presentandovi un'altra applicazione di concetti simili a quelli che nascono nell'analisi della della trasmissione fra mediante cinghie cinghie piatte e l'applicazione ai freni al nastro ok quindi come potrebbe essere realizzato e cosa e in cosa consiste un freno il freno al nastro al nastro il freno a nastro potrebbe essere realizzato in questo modo abbiamo questo corpo arancione questa sorta di leva vedete questa questa leva qua che è incenerata mediante una scenera fissa nel punto a al telaio ok a un telaio e applicando un carico p questa leva fa fulcro rispetto al punto a e quindi il punto b tende a spostarsi diciamo tende a spostarsi rotando attorno a questo punto con una certa velocità d'accordo che succede che collegata a questa leva arancione c'è un nastro ok quindi un nastro ad esempio di materiale metallico che vedete si avvolge attorno ad un tamburo ok si avvolge attorno ad un tamburo quindi cosa succederà se ipotizziamo che nel contatto fra il nastro e il tamburo ci sia un coefficiente d'attrito dinamico pari ad f se il tamburo inizialmente ruota con una velocità angolare omega ci sarà diciamo strisciamento in questo caso in corrispondenza di tutto l'angolo di avvolgimento d'accordo perché non ci può essere in questo caso una zona di aderenza è una zona di strisciamento perché il nastro non sta ruotando come faceva la cinghia attorno alle puleggie ma il nastro è fisso ok quindi in corrispondenza dei punti in cui effettivamente cominciano a toccarsi il nastro e il tamburo in corrispondenza di tutti questi punti cioè in corrispondenza di tutto l'angolo di avvolgimento c'è strisciamento d'accordo per cui l'angolo di strisciamento alfa in questo caso corrisponde esattamente all'angolo di avvolgimento beta d'accordo quindi il problema che ci poniamo potrebbe essere formulato in questi termini quindi ad esempio dato il carico applicato a questa leva p ok questo punto rimane fermo questo punto viene forzato a spostarsi quindi nascerà una tensione t1 in questo ramo diciamo del in questo ramo del nastro qui nascerà una tensione t2 come sono legati t1 e t2 quale sarà l'azione frenante sul tamburo e quale deve essere appunto il carico p che lo va a realizzare d'accordo quindi in particolare in questo esempio noi ci poniamo ci mettiamo a risolvere il problema in questi termini quindi dato il carico p che si vuol calcolare dato il carico p questo qua giù applicato alla leva ok si vuol calcolare l'azione frenante sul tamburo quindi l'azione frenante sul tamburo che si svilupperà in virtù del fatto che in corrispondenza di tutti questi punti ci sarà a questo punto strisciamento relativo fra il nastro fermo e il tamburo che ruota d'accordo quindi vorrà dire che ragionando nello stesso modo su come abbiamo ragionato per la cinghia ci sarà un trasferimento cioè un incremento della tensione tangenziale a partire da questo ramo fino a questo mediante la ben nota formula con l'esponenziale e alla f alfa ecco una cosa importante è che si nota come la tensione nel nastro ok cresce nella direzione in cui questo applica una tensione tangenziale alla puleggia d'accordo perché sostanzialmente il tamburo il tamburo che adesso c'è stato nominato puleggia ma di fatto insomma è il corpo rotante sta ruotando in questo modo ruotando in questo modo il nastro applica al tamburo stesso un'azione tangenziale ovviamente uguale opposta alla direzione in cui il tamburo sta ruotando e questa tensione tangenziale ovviamente è piccola qui e cresce 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 fin tanto che non diventa diciamo massima in corrispondenza della fine dell'angolo di avvolgimento d'accordo quindi in questo caso diciamo l'angolo beta sarebbe misurato rispetto a questa direzione quindi rispetto a una direzione generica teta sarebbe calcolato in questo modo quindi in corrispondenza di questa sezione uno avrebbe t1 quindi qui diciamo la tensione del nastro sarebbe t1 in corrispondenza di una sezione generica teta qui avremmo una tensione pari a t di teta in corrispondenza della sezione finale qua abbiamo una t con due che sarà ovviamente legata a t1 dalla ben nota relazione t2 uguale a t1 per e alla f alfa d'accordo quindi questo è diciamo il legame costitutivo che c'è fra t1 e t2 in virtù del fatto che in corrispondenza di tutto l'angolo di avvolgimento che in questo caso corrisponde con l'angolo di strisciamento appunto c'è strisciamento quindi qui si strisce diciamo lungo tutto l'angolo avvolgimento per cui beta coincide con alfa e diciamo quali sono le equazioni costitutive che potremmo scrivere per risolvere questo sistema quindi dato il carico p calcolare l'azione frenante sul tamburo beh le equazioni sono abbastanza semplici quindi sono ad esempio una prima equazione è l'equazione l'equilibrio e la rotazione del tamburo attorno ad o quindi ipotizzando ad esempio che sul tamburo è applicata fosse applicato un momento motore mm che tenderebbe diciamo a far accelerare il tamburo nella sua direzione di rotazione quindi questo diciamo mm sarebbe eventualmente un momento motore diretto in questo modo cioè nello stesso verso della omega ok da qui il segno diciamo positivo poi ci potrebbe essere diciamo un momento mr diciamo che ti fa quindi un momento resistente che farebbe frenare per cui lo prendo col segno meno per cui vorrebbe dire ad esempio che mm r sarebbe diretto in questo modo tale da ridurre la velocità angolare e naturalmente sul tamburo c'è un'azione frenante mf che è l'effetto di quello che il nastro fa sul tamburo stesso d'accordo quindi vedete tutto diciamo il contributo l'integrale di queste forze tangenziali a livello di momento mi darebbero un momento frenante mf fatto in questo modo quindi la sommatoria dei momenti applicati al tamburo è uguale a j per la sua accelerazione angolare quindi questo sarebbe l'equilibrio a rotazione del tamburo attorno al polo o dopodiché un'equazione costitutiva è data anche dal fatto diciamo le equazioni costitutive meglio le due equazioni costitutive sono date dal fatto che diciamo fra t2 e t1 come abbiamo visto prima cioè fra la tensione in questo ramo qua la tensione in questo ramo qui c'è il collegamento dato dalla dal fatto che lungo tutto la l'arco di avvolgimento c'è strisciamento per cui la tensione t2 è uguale a t1 per e alla f alfa dove f è coefficiente di attrito di strisciamento nel contatto fra nastro e tamburo e alfa è appunto l'angolo di avvolgimento e poi chiaramente se io vado a guardare qual è appunto l'effetto no di di frenatura del tamburo il tamburo è frenato dal fatto che qui c'è una c'è una tensione t2 qui c'è una tensione t1 entrambe che hanno braccio r rispetto al polo o quindi il momento frenante è t2 per r meno t1 per r e quindi il momento frenante globalmente è dato da t2 meno t1 per r con t1 e t2 e t1 che sono legate dall'equazione costitutiva dovuto allo scivolamento del tamburo nello strisciamento del tamburo sul nastro d'accordo dopodiché l'altra equazione che si può scrivere è un'equazione di equilibrio per per la leva cioè per questo corpo qua e questo potrebbe essere un equilibrio a rotazione della leva rispetto alla scenera fissa ok per cui rispetto alla scenera fissa la tensione tangenziale t2 non fa momento mentre diciamo t1 fa momento ma la forza che ha ovviamente è applicata la forza che è applicata dal dal nastro sulla leva ovviamente è diretta in questo modo ok perché è una forza di trazione di conseguenza se faccio l'equilibrio rotazione della leva rispetto al polo a e vado a scrivere ad esempio prendo questo come verso positivo vado a scrivere che p per il suo sobraccio b meno la t1 per il sobraccio rispetto ad a che varrà questa quantità verrete definita a e questo è l'equilibrio alla rotazione equilibrio statico alla rotazione della leva attorno alla quindi ad esempio se fosse noto il momento motore applicato al tamburo il momento resistente che un utilizzatore collegato al tamburo diciamo richiede ok le incognite in questo problema sarebbero il momento frenante la decelerazione quindi c'è un'accelerazione angolare che in generale verrà una quantità negativa perché decelererò il tamburo rispetto alla sua velocità iniziale e la t2 e la t1 ok perché ipotizzo ovviamente che il carico p sia sia assegnato quindi era stato era dato e volevo calcolare quindi l'azione frenante quindi quali sono le che le azioni che scrive le equazioni che scrivo beh sono 4 sono 1 2 3 e 4 e giustamente le incognite sono date da il momento frenante la accelerazione angolare del tamburo la forza t2 e la forza t1 quindi questo è un sistema di quattro equazioni in quattro incognite che dato il carico p applicato alla leva mi consente di sapere le tensioni t1 e t2 che si sviluppano in questi rami del nastro il valore del momento frenante mf che cerca di frenare il tamburo e ovviamente anche la accelerazione angolare omega punto del tamburo che verrà frenato d'accordo quindi se vado a risolvere questo sistema semplicemente mi vado a calcolare svolgendo semplici passaggi che la tensione t1 in questo ramo qui che è il ramo meno teso varrà p per b diviso a la t2 sarà legata alla t1 dalla ben nota equazione costitutiva diciamo dello scorrimento del nastro sul tamburo dello scivolamento strisciamento del nastro sul tamburo il momento frenante come abbiamo visto prima sarà uguale alla differenza delle tensioni delle forze diciamo presenti nei rami della del nastro t2 meno t1 per il raggio del tamburo che ovviamente tenendo conto di queste relazioni può essere scritto in questa forma d'accordo quindi diciamo qui il flusso logico è dato noto il carico p conosco t1 dato t1 conosco t2 dato diciamo t1 e t2 ovvero t1 da questa espressione posso calcolare il momento frenante che vale t1 per r per e alla f alfa meno 1 di conseguenza a questo punto se vado in questa espressione a questo punto momento frenante è noto per cui posso calcolare l'accelerazione angolare del tamburo e quindi sapere ad esempio dato un carico p diciamo applicato a questa leva e note la geometria del sistema il coefficiente di attrito di strisciamento ad esempio data una certa velocità angolare omega 0 del tamburo in quanto tempo il tamburo frena e si ferma d'accordo ecco una un'osservazione interessante che si può fare è ad esempio vedete perché ad esempio per un tamburo che sta ruotando con una velocità angolare omega positiva ho deciso ad esempio di avere un layout del freno fatto in questo modo cioè in cui avevo ad esempio che questa qui in a era la cerniera fissa beh vedete perché in pratica quello che succede è che il ramo t2 dato che la velocità angolare è questa questo ramo t2 sarà più teso rispetto a questo quassù quindi se io mi costruisco una leva d'azionamento cioè questo corpo qua quindi una leva d'azionamento questo corpo qui che è infulcrato in corrispondenza di un punto in cui converge la forza che rappresenta diciamo la tensione nel ramo più teso la t2 mi si scarica direttamente sul telaio quindi io con il carico p da applicare alla leva devo soltanto vincere il momento il momento che mi farà il la tensione nel ramo meno teso d'accordo quindi in questo caso effettivamente la il layout proposto è un layout diciamo furbo è un layout diciamo intelligente perché sostanzialmente fa in modo tale che la tensione t2 che è maggiore di t1 e quindi è maggiore di t1 a causa del fatto che il tamburo sta girando in questo modo è appunto è maggiore di t1 e quindi vado a far scaricare direttamente a telaio la t2 per cui nell'equilibrio rotazione della della leva d'azionamento che è dove devo applicare io questo carico p per cercare di frenare il tamburo questa forza t2 non mi ci compare e quindi devo semplicemente vincere con la mia p che ha un braccio b il momento che mi fa la forza t1 sulla leva che ha un braccio pari ad a con t1 che è la componente minore fra i due rami del nastro d'accordo quindi quello questo è una ulteriore diciamo applicazione se volete di quello che abbiamo visto nel caso di trasmissione a cinghia e però vedete in questo caso direi che abbastanza evidente rispetto al caso di cinghie puleggie il fatto che qui ovviamente si avrà sempre strisciamento che si va sempre strisciamento perché naturalmente la il nastro è fisso e il tamburo sta ruotando e quindi naturalmente non ci sarà mai alcuna zona in aderenza per cui il trasferimento delle tensioni fra t1 e t2 avverrà esattamente mediante un angolo alfa che è esattamente l'angolo di avvolgimento del nastro attorno al tamburo d'accordo quindi questo se volete è un piccolo esempio di applicazione ulteriore come appendice di quello che abbiamo visto nel caso di trasmissioni a cinghia bene vi ringrazio per l'attenzione